Ecco sindaco, avete presentato questa candidatura sostanzialmente per questo bando che potrebbe consentire a Civitella di installare nella Rocca un museo, ma ci sono poi anche tante altre iniziative. Sì, era una manifestazione di interesse prodotta dalla regione toscana per dei fondi nazionali su un bando del PNR in cui si andava a selezionare, c'è una selezione di un borgo in Toscana su cui fare intervento di rigenerazione urbana, rigenerazione sociale e tanto altro. Civitella ha ritenuto importante partecipare a questo bando con il borgo, il borgo di Civitella, con un progetto che si articola in tre grossi filoni. Il primo che è la riqualificazione ambientale di tutto il paese, esterna e interna del paese. La seconda è appunto la realizzazione all'interno della nostra Rocca di un museo, quindi la ricostruzione della Rocca per costruire un museo. E la terza è la riqualificazione e la rigenerazione della nostra RSA in Casa per Artisti. Ecco, al di là di come andrà questo bando, si ricomincia a parlare di Rocca di Civitella. La speranza ovviamente è quella che davvero alla fine questo luogo abbia un destino diverso. Beh, alcuni interventi poi di fatto ci sono già stati, no? Certo, con la passata amministrazione abbiamo fatto alcuni interventi che sono il terrazzo e lo svuotamento della torre che sono propedeutici a quello che è la progettazione che stiamo portando avanti per una riqualificazione della torre. Cercheremo, stiamo partecipando anche, siamo i primi degli esclusi al progetto Bellezza, quindi questa amministrazione vuol portare avanti il progetto di riqualificazione della nostra torre. Nel PNRR quanto ci contate al di là di questo progetto, ma insomma comunque in generale? Ma il PNRR è uno strumento importante, cercheremo di partecipare il più possibile ai bandi che escono in virtù anche di quello che è il nostro programma elettorale, in quello che vogliamo fare, in quello che abbiamo messo nel nostro programma.